Ciao, io sostengo viva la settimana per la reanimazione cardiopormonare dal 13 al 19 ottobre. Io sostengo viva la settimana per la reanimazione cardiopormonare dal 13 al 19 ottobre. Io sostengo viva la settimana per la reanimazione cardiopormonare dal 13 al 19 ottobre. Io sostengo viva la settimana per la reanimazione cardiopormonare dal 13 al 19 ottobre.